Il mese di gennaio ha sancito il passaggio dal mercato tutelato a quello libero del gas, prorogato invece al 1 luglio per l'elettricità. La misura, attuata dal Consiglio dei Ministri in accordo con l'Unione Europea, che ha incluso la liberalizzazione del mercato dell'energia tra le condizioni indispensabili per l'erogazione della terza rata del PNRR, ha destato non poca confusione tra i consumatori, chiamati a regolarsi in una giungla di offerte avanzate dalle compagnie operanti nel settore. A fare chiarezza è l'avvocato Edno Gargano, esperto nei diritti dei consumatori. È stato fatto in favore dei consumatori e in ricezione di quella che è una norma europea che già da tempo aveva imposto a tutti quanti gli stati di adeguarsi e quindi di permettere ai consumatori di potersi muovere liberamente all'interno del mercato, allo stesso modo di permettere alle compagnie di poter fare una giusta gara con delle giuste promozioni e quindi di scegliere una piuttosto che l'altra. Molti consumatori sono spaventati perché pensano di essere in ritardo, di non aver fatto in tempo, soprattutto non sanno neanche bene come orientarsi adesso in tutta questa giungla di offerte. Allora cosa fare? Innanzitutto niente panico, nel senso che ci sono delle categorie protette, infatti il passaggio non avverrà automaticamente per determinate categorie cosiddette vulnerabili, ovvero gli over 75, le persone che si trovano in condizioni di salute precarie, le persone che si trovano in condizioni economiche precarie, ma anche le persone alle quali è stato assegnato un immobile in conseguenza di una calamità naturale e infine gli abitanti di isole minori che non siano interconnesse con la nostra penisola. Molte persone mi stanno chiedendo ma cosa succederà se non cambierà operatore? Assolutamente niente perché si rimarrà con il vecchio operatore, è già intervenuta la Rera che è l'autorità per l'energia che ha calmirato dei prezzi e verranno quindi applicate delle tariffe cosiddette placet, cioè che applicano una media tra i vari costi delle varie compagnie. Non ci sono costi per cambiare operatore, quindi il consumatore potrà liberamente scegliere quello che gli conviene di più, ma qualora dovesse decidere di non cambiare, quindi verrà automaticamente trasferito nella tariffa cosiddetta placet. Come difendersi dalle truffe che spesso in casi come questo sono sempre dietro l'angolo? Vi stanno bombardando di telefonate, prendetevi il vostro tempo perché la cosa sicura è che avrete continuità, nessuno vi staccherà il gas, nessuno a luglio vi staccherà l'elettricità, quindi non vi fate mettere pressioni, prendete una decisione ponderata e valutate attentamente le tariffe.